135 milioni di euro di opere andranno a rendere ancora più belle, più sicure, più moderne centinaia di scuole di questa regione, dopo le tante che abbiamo già sistemato o ricostruito. In questo caso vi sono anche oltre una ventina di nuove scuole proprio realizzate ex novo. Ci sono dentro anche oltre una decina di nuove palestre o di sistemazione delle stesse, ma soprattutto oltre ad avere scuole più belle, moderne e sicure, sono anche tanti cantieri che apriranno e che quindi daranno un aiuto, una spinta a tornare a crescere in particolare a questo territorio. Con queste risorse che seguono quelle che abbiamo avuto negli anni passati faremo essenzialmente queste cose. Innanzitutto la messa in sicurezza sismica, questa è la cosa prioritaria che dobbiamo fare. Poi c'è la parte antincendio, poi c'è la qualità delle costruzioni, le scuole cambiano nel tempo e quindi è giusto anche che siano adeguate. Poi ci sono gli ampliamenti, perché ci sono delle scuole che stanno crescendo e anche scuole nuove. Poi ci sono le palestre, quindi stiamo ragionando sull'idea di fare delle scuole, dei complessi scolastici nuovi, più ampi, più ricchi, che però siano soprattutto sicuri e certi. Ci mettiamo dentro i nostri ragazzi, quindi devono essere assolutamente sicuri, certi, ma anche molto belli.